buongiorno sono alberto rollo lavoro da una vita nel mondo editoriale dell'editoria e 24 anni in filtrinelli tanti altri anni per altre case editrici non mai fatto altro che quello cercare di stare dentro alla macchina che restituisce l'immaginazione attraverso i libri sono arrivato tanti anni fa a fare questo lavoro con la pazienza la passione e la voglia ogni volta di imparare di imparare da chi veniva prima di me e da quello che stava accadendo davanti a me l'asse di rotazione del nostro lavoro è quello è uno e uno solo l'autore e la sua immaginazione da lì in poi il resto è la macchina e della macchina bisogna apprendere tutto l'anno scorso sono venuto a insegnare al sema ed è stata un'esperienza molto interessante perché ho visto tante menti pronte a recepire non solo ma anche a portare delle idee e a sviluppare io vi invito con grande partecipazione a provare questa strada attraverso il sema sema è un ottimo corridoio da attraversare per arrivare a lavorare intorno al libro intorno all'autore un consiglio interrogatevi tantissimo prima di entrare in una scuola interrogatevi prima di interrogare sarà tutto più facile sarà tutto più bello